Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti signori miei Secondo episodio della settimana, noi ci siamo, nello scorso episodio abbiamo chiuso il mercato e abbiamo fatto due vittorie su due partite Che ci hanno un attimo accorciato la classifica rispetto a Bristol e All City ma non hanno fatto completamente variare la distanza dal sesto posto per i playoff Abbiamo sempre 9 punti di ritardo rispetto ai playoff, va bene, allora, prima di partire col video però io vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti Per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 Sia su Facebook che su Instagram e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate i link per fare tutto l'ambra che vi ho appena detto in descrizione al video Detto questo, partiamo e non perdiamo tempo Ok signori miei, allora, partita contro il derby in casa Partita importante, partita importante, io lascerei in campo gli stessi signori Anche se c'è qualcuno con la faccia un poco arrabbiata Ma non ho che farci, non ho che farci Per ora manteniamo gli 11 titolari che ci hanno portato due vittorie importanti Lasciamo Naga al posto di Claudio signori E vediamo come va, perché Naga all'ultimo episodio deve essere un attimino lamentato Quindi facciamogli fare due partite di fila, così riprende morale e poi ritorna Claudio in attacco Loro vengono da una sconfitta contro il Queen Park Rangers 18 febbraio 2023, che ci fanno? Vinciamo 3-1, tripletta di Morris Mamma mia Tripletta di Morris, non lo ferma più nessuno questo gamberetti Questi gamberetti non li ferma più nessuno Si è fatto male Mitchell, che è uscito per Hamilton E poi sono entrati Esposito e Mariani per Raid e Nicholson 3-1, pulito pulito signori Bellissimo La cavalcata continua, bella così, bella così signori Giocatore infortunato, ora andiamo a vedere cosa è successo Intanto continuiamo con gli allenamenti Claudio mio, devi allena bene però Oh, Marcos diventa un 59 Marcos sta iniziando a diventare tanta roba, buono così Claudio mio, devi salire però Claudio ti sta allenando troppo male Giocatore infortunato, chi che si è fatto male Mitchell per 7 settimane A posto, penso che la stagione sia finita per Mitchell La classifica dice Litz 60, Morecambe 53 Abbiamo recuperato due punticini a Litz Adesso siamo a 7 punti signori miei E siamo a un punto dal Bristol e a un punto dall'All City La classifica inizia a farsi interessante raga La classifica inizia a farsi interessante Prossima partita contro non so chi Chi so questi, non lo so Gli allenamenti non li possiamo fare Abbiamo il Manchester in Coppa raga dai Ma davvero dite C'abbiamo il Manchester in Coppa E poi subito dopo la partita contro il Wigan Ma vabbè in Coppa giocheranno di nuovo i panchinari raga Come l'altra volta Stavolta non avremo sicuramente la fortuna Del turno precedente Allora fuori Mitchell E dentro Watanabe Hamilton è incavolatissimo E non ci posso fare niente Hamilton mio Statti lì e non rompe le scatole Claudio torna in campo al posto di Naga E va bene Non cambiamo nient'altro signori Non cambiamo nient'altro Ci servono i tre punti signori Ci servono i tre punti Contro il Reading Non so in che posizione sia in classifica Non ho guardato le altre posizioni delle squadre fino adesso E va bene così Allora loro vengono da una sconfitta contro l'Aldersfield Domenica 26 febbraio 2003 23 2 a 0 Doppietta di Claudio signori Quarta vittoria di fila per i gamberetti Mamma mia E' uscito il raid Per entrare Ed è entrato esposito Ammonito Nicholson Doppietta di Claudio signori miei Quarta vittoria di fila Da quando è iniziato questo 2023 Mamma mia Spettacolo Ora prenderemo le batoste pesanti contro il Manchester Però va bene Però va bene Devo far giocare per forza i panchinali Per dare un turno di riposo E per continuare la cavalcata in campionato Raga Non possiamo puntare alla Coppa Mi dispiace Perderemo male Ma non possiamo puntare alla Coppa Allora Fermi tutti Fermi tutti Sono arrivato un sacco di mail Le seconde squadra Vinto premio allenatore Uuuu Allenatore del mese Spettacolo Grazie Rebecca Grazie mille Allora Vediamo i nicchi che ci ha portato 71 89 No Hai perso tantissimo Amico mio Imaen Barahim 72 88 No Malik Saleh 50 70 No Ermutanda Signora Ermutanda Questo ce lo teniamo Da conto Continuiamo a seguire Il mutanda E il kiwi No Il kiwi Non ci piace Il faraone Non ci piace Il mahmud Non ci piace E il salamaro Non ci piace nemmeno Ci teniamo solamente Il mutanda Signori Che magari potrebbe essere interessante Poi vediamo Bello che ci ha portato Bello che ci ha portato Miranda Che è un 80 90 Va ingaggialo Vediamolo più da vicino José Soria È inguardabile Davide Monte Lo seguiamo Anche se c'è troppo divario 69 94 Adrà un crollo terribile José Duarte 74 94 Lo seguiamo Segura Segura Che fai schifo Lo mandiamo via E Benitez È inguardabile Pure lui Ok Continuiamo a seguire Da vicino E poi Morris Invece Dal Messico Ci ha portato Mereles Che non è Completamente un giocatore Rios Lo teniamo lì Perez No Troppo basso Gouvre No Come ti chiami Faria No E Aldair No Ormai siamo diventati Molto attenti Raga Nella scelta dei giovani E non possiamo prenderli tutti Dobbiamo prendere solamente Quelli mirati Che realmente ci interessano Allora signori Rapido cambio di formazione Giocheranno Naga E Peter Pan Sulla destra Gioca Kuruma Al centro campo Giocheranno Mariani Ed Alvarez Alvarez Sulla sinistra Va a giocare Esposito Che Anche se Guatanabe La gioca per forza In difesa Giocano Harwood E Hamilton Do sta Hamilton E sulla destra Gioca il nostro Abru In porta Giocherà E Yadama Io Cortesemente Claudio Però me lo vorrei Risparmiare E anche Morris Me lo vorrei Risparmiare E ci teniamo Casa Dei Non abbiamo Ah si Può essere che Johnson Tornerà in campo Dopo non si sa Quanto tempo Il nostro The Rock Dei poveri Potarsi che Riuscirà a ripetere il campo Signori Prepariamoci a questa Sonora sconfitta Ma più di Più dei panchinari Non posso andare a mettere Contro il Manchester Loro vengono da una sconfitta Per 3-1 Contro il Liverpool Che ci famo noi? Ci perdiamo 3-0 E va bene E' uscito Hamilton E' uscito Hamilton Per Salazar Ed Esposito Per Nicholson Ammoniti Mariani Alvarez Lo sapevamo Che sarebbe finita Così malamente Però va bene Abbiamo avuto il privilegio Di ospitare il Manchester Per quest'anno Nel nostro campo Andiamo avanti Signori Contro il Wigam Partita spostata Come dici tu? Mi hanno spostato Una partita Va bene Come dicono loro Ma perché è andata in ritorno? Contro il Manchester Dimmi No ti prego Perché mi hanno spostato La partita? Boh Non ho capito Ultima partita Della giornata Signori Contro il Wigam Contro il Wigam Vediamo di portarci A casa I tre punti Che ci servono Signori Allora Dentro Morris Che è sinistra No Da qua ci sta Claudio E di qua ci sta Morris Poi qua Andiamo a mettere Casa Dei A centrocampo Tornano Amponsa E Raid Anche se non la riguarda Al massimo Qui ci sta Nicholson Watanabe la gioca Lima E Salazar E sulla destra Drollo E in porta Signori McKinley E poi abbiamo Brew Hamilton Esposito Kuruma Mariani No 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 Allora Al posto di Johnson Deve giocare Deve giocare Naga Poi Peter Pan Al posto di Kuruma E Mariani Perfetto Va bene così Torno ai nostri undici Non sono al 100% Perché qualcuno Purtroppo ha giocato In Coppa Contro il Manchester E è entrato Dalla panchina Leggiamo velocemente Queste Queste mail Chi è che si lamenta Claudio Ci penserò E Raid Ci penserò Dovrebbero essere Tutti due in campo Se non ricordo male Sia Claudio Che Raid Sì perfetto Andiamo a giocare in casa Contro il Wigan Signori miei Sabato 4 marzo Loro vengono da una vittoria Contro il Queen Park Rangers Che ci famo noi? Ci vinciamo 3 a 0 Contro il Wigan Raga Mamma mia Doppietta di Claudio Un gol di Casadei Sono usciti Raid e Morris Per Esposito E Naga E la quinta vittoria Quinta vittoria Su 5 Da quando iniziò Del 2023 Spettacolo Signori Spettacolo Naga si lamenta Naga mio Ma che vuoi Stiamo Stiamo a 3 punti Dai per le offre Ti lamenti Naga Ma che ti lamenti Mamma mia Oh Claudio diventa un 76 Bella così Grande Claudio Grande Claudio Che diventa un 76 Bella così Si prepara Per le party tons Dell'anno prossimo Andiamo a vedere Stai mail Raga Andiamo a vedere Stai mail Andiamo a vedere Stai mail Allora Naga Vuole essere ceduto Andiamo a carriera Vuole essere ceduto La prego di accontentarmi Va bene Naga vuole essere ceduto Signori Non possiamo farci niente Morris apprezzando L'impegno Prestazionatorevole E anche Ottimo lavoro Anche per rete Naga vuole essere ceduto Signori miei La protesta di Naga La protesta di Naga Non ci posso fare niente Raga Anche quando per ora Rimarrà Rimarrà dei nostri Non ha dove andare Non ha dove andare Andiamo alla prossima partita Signori Andiamo alla prossima partita Ah no Lo sguonzi È una partita in meno Eh Porca miseria Si sono allontanati di nuovo Si sono allontanati di nuovo Continuiamo con loro Il prossimo Marcos diventa un 60 Bravo Marcos E April diventa un 59 Bella così Bella così Bella così Va bene così Va bene così Abbiamo la grana Naga Signori La grana Naga Quando è la prossima partita Scusatemi Oh ok Il 18 Che è successo? Offerta per il trasferimento Per Naga Offerta per il trasferimento Per Naga Va bene Va bene Naga Se ne vuole andare Mi offrono 14 milioni E Tratta Andiamo a trattare Ne voglio almeno 20 Spariamo grosso Raga Voglio un Naga Lui se ne vuole andare È un rompiscatole E Rinnegozia l'offerta Ne voglio almeno 20 Sì Il giocatore è mio E decido io Avanza offerta Vi sta bene 20 14 e 5 No 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 Contro offerta Non ci siamo Il negozio è offerta E c'ha 20 anni Naga Vanno bene 19 e 5 Avanza offerta 19 e 5 14 e 6 Contro offerta Tu sali di 1 E io scendo di 1 19 Tondi tondi Questa è la nostra Ultima offerta Sotto i 19 Non scendo Chi vuole deve pagare Eh ciao Ciao zio Ti faccio cercare qualcun altro Al mercato delle pulci Ciao ciao Qua i giocatori si pagano Non è che Li svendiamo così Arriviamo alla prossima partita Raga Basta che ora non rincia A rompere le scatole Con Con le offerte Per i trasferimenti Per Naga Dai così Giorgitari impegnati Con la nazionale Offerta per il trasferimento Per Naga Lo Sheffield United Va bene Dopo li risponderemo Andiamo avanti signori Voglio arrivare alla prossima partita E interromperci E interrompere il video qui Offerta della nazionale Offerta per Naga Perfetto Signori miei Detto questo Noi ci fermiamo qui Con questo video Io vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao